Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori di miglioramento della sicurezza al momento ci sono rallentamenti tra Ginestra Fiorentina ed Empoli Est in entrambe le direzioni. Percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. Per le autostrade in A1 in direzione Bologna si informa che sono state chiuse le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandici. Questo sta provocando code per il traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta. Sul raccordo Siena-Firenze possibili disagi per uno scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!